bene ragazzi allora di cosa parleremo oggi rapidamente stato legittimo dell'immobile ok tra permesse planimetri catastali è il titolo di questo webinar naturalmente che siate sulla piattaforma webinar o che siate su facebook potete interagire chiaramente dovete darmi tempo di vedere la doppia chat ok vi assicuro che non è facile allora allora bene se mi sentite mi fa piacere significa che abbiamo settato tutto oggi parleremo di per sommi capi legittimazione urbanistica la definizione dello stato legittimo immobiliare il passaggio della compravendita e pratiche edilizie onere di provare lo stato legittimo le planimetrie catastali raffiguranti lo stato edificato e questo è il in particolare il punto di arrivo ok è il punto nodale e in più il valore probatorio indiziario delle planimetrie catastali ok allora dai ragazzi vedo che qui è quasi esaurito tutto per non dire che è esaurito vedo che c'è ancora qualcuno in in arrivo bene allora perché mi dite mi sentite a tratti non sentite sì che mi dite sta funzionando è allora naturalmente fatemi sapere se ci fossero dei problemi tecnici video anche un'altra cosa in questi giorni siamo tutti a casa le reti infrastrutturali sono sotto pressione quindi è possibile che il problema non sia la trasmissione ma sia la vostra connessione potete farla anche da cellulare per cui nessun problema potete potete vederlo qualunque da qualunque parte metteremo questa registrazione bene cominciamo con una domanda a un'altra cosa se siete su facebook o su altre piattaforme potete condividere questo video anche in tempo reale oppure dopo quando sarà pubblicata la registrazione cominciamo con una domanda è la domanda dalle 100 pistole la legittimazione urbanistica è un qualcosa è codificato dalla normativa in forma espressa cioè si trova una legge un articolo di legge un qualcosa che ci dice ci dà una definizione di legittimazione urbanistica allora un minuto per rispondere scrivete nella chat si oppure no e poi vi rispondiamo ok allora sotto con i commenti e vi rifò la domanda la legittimazione urbanistica è una materia è codificata dalla normativa in forma espressa oppure no vediamo cosa rispondono da facebook e roberto tutto legittimo gabriella alessandro siete tanti e anche qui devo dire siete tanti ok allora vedo che rispondete si diciamo cosa rispondete allora no nonni siamo costretta ad asseverare no ok allora la risposta è la seguente n non è messi no per una domanda tra bocchetto lo so perché diamo alcuna risposta del perché non è scritto nel testo unico tutta la questione della legittimazione urbanistica attenzione non ho parlato di commerciabilità ho parlato di legittimazione urbanistica che vediamo tra pochino di cosa si tratta ok forse è scritto nelle leggi regionali c'è stato magari anche vi dico l'esperienza toscana c'è stato un momento in cui aveva cercato di fare una sorta di acqua collante 67 mai me è stata colpita puntualmente in corte costituzionale ma ecco il ni ce lo ritroviamo dalla finestra questo problema ed è scritto nella modulistica unificata approvata a livello nazionale prima e poi a livello regionale o guardiamolo nel dettaglio allora eccola qua quante volte avete visto nello specchietto delle scia dei permessi di costruire questa questa parte nella modulistica trovate soprattutto nella parte di asseverazione o nel modulo generale ora non ricordo bene ma trovate questo specchiettino ecco si trova e da enormi responsabilità ok perché e soprattutto allora perché rispondere ni alla domanda di prima perché questa modulistica unificata è un qualcosa che è stato emanato in forza delle riforme ma dia decreto scia 1 decreto scia 2 ve li ricordate no quindi anche la modulistica unificata è stata fatta in forza dei provvenimenti normativi in più le leggi regionali che hanno recepito e raccordata con modifiche e anche aggiornato successivamente le proprie modulistiche in materia edilizia su app e ambiente e sono valide a tutti gli effetti di legge perché sono appunto emanate per forza di legge allora un minimo di valore ce l'hanno certo che ce l'hanno allora vedo da facebook siete abbastanza in fibrillazione mi fa piacere bene allora domanda per entrambi quindi perché nello webinar e chi è per facebook per quanto riguarda allora la legittimazione urbanistica avete fatto caso qui che c'è questa freccettina che ci dice a noi tecnici soprattutto anche ai proprietari lo chiede le opere riguardano l'organismo edilizio esistente quindi a meno che non si parli di nuove costruzioni ma se si parla di costruzione esistenti lo stato attuale risulta due punti o pienamente conforme oppure se è in difformità mi devi dire a cosa allora già il fatto che io ti debba dichiarare se è in difformità tanto vale aspettarsi il giorno dopo l'ordinanza di demolizione e tanto vale presentare subito la sanatoria non ha senso dichiarare a severare che c'è una difformità da questo punto di vista a meno che ecco questo è per spiegare ci sono dei moduli che sono appunto in sanatoria ci sono molte regioni che hanno il modulo anche di permesso di costruire in come dire in sanatoria oppure la scia in sanatoria ci sono alcune regioni che hanno adattato aggiungendo la casellina da sbarrare ora la toscana non ce l'aveva l'ha recepito da un paio dei mesi la scia in sanatoria quindi si può ottenere domandare la sanatoria dicendo da subito qual è la difformità o rispetto a cosa è difforme ecco questo era un po come dire un tranellino ovviamente se uno non ha da fare una sanatoria però deve presentare la pratica edilizia signore fate 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 attenzione perché o è difforme tanto vale presentare la relativa pratica di regolarizzazione oppure dovete dichiarare è pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente elenco delle pratiche edilizie quindi permessi licenze concessioni autorizzazioni vecchi articoli 26 c la dia scia tutte si fa prima di le tutte vedete bene che questa casellina qui ci dice è pienamente conforme e allora vedete che ci obbliga a noi tecnici professionisti come dire a dover dichiarare tutta la qualcuno mi dice continua a sentirti malissimo siete sicuri perché io qui non lo so devo alzare il volume dove abbassare fatemi sapere è per il volume perché allora monica mi dice si sente bene io credo vedo che i sistemi non mi segnalano nulla allora se mi sentite male fatemi sapere perché perché il volume mi sembra sia a tutta al massimo volume ok forse è un problema della vostra rete mi dispiace ma da questo punto di vista credo sia più un problema di saturazione della rete locale se avete difficoltà venite sul mio profilo facebook e la diretta sta andando lì ok vedo continuata anche a chiedere amicizie io viabilito nessun problema bene andiamo avanti dicevamo prossima slide chiaramente c'è una definizione di uno stato legittimo immobiliare no abbiamo detto che anzi abbiamo detto mi ma lo dobbiamo ricavare da dalla giurisprudenza io nel mio libro anche 67 e lo dire l'ho coltato in questo modo è l'insieme di tutti i titoli abilitativi e tra a te urbanistico edilizia e relative all'immobile cioè è la somma di tutti per e sciaci la concessione passato qualcuno di voi può fare giustamente l'obiezione sì ok ma per tutte quelle compiute in epoca zone non soggette all'obbligo di licenza edilizia a suo tempo cioè famose anche 67 ma solo io aggiungo anche ma tutte e tutti gli interventi le opere che sono state compiuti negli ultimi anni con l'edilizia libera anche loro comunque entrano a far parte senza diciamo senza il titolo senza il pezzo di carta nella configurazione dello stato legittimo quindi c'è da porsi anche quest'altro tipo di aspetto che non è proprio indifferente e io non lo prenderei sotto gamba anche perché che presenteremo le pratiche edilizie o che presenteremo le future come dire le future pratiche per fare i passaggi di proprietà chiaramente e ci dobbiamo porre il problema ci dobbiamo porre il problema perché poi chi verrà dopo dovrà avrà all'ingrato compito di dover ricostruire un pochettino il quadro della situazione tenendo conto anche dell'edilizia libera perché bisogna tener conto l'edilizia libera perché il problema dell'edilizia libera quella del glossario no se andate a vedere sul mio canale youtube ci ho fatto più di un video sulla questione del glossario il problema è che bisognerà porsi con un occhio critico un futuro nel fare le verifiche da questo punto di vista mi spiego meglio poi cambieranno le norme cambieranno cambieranno perché ci rendiamo conto che dovremo ricostruire e verificare quando e come sono state fatte certe opere in funzione dei vincoli per esempio cioè io penso ai vincoli paesaggistici che secondo me non sarà un qualcosa da da prendere sotto gamba ci avete pensato anche voi che tra qualche anno saremo costretti a fare le verifiche da questo punto di vista a fare le verifiche e vedere tutti gli spazi tutti i luoghi dell'oggetto dell'immobile se e come sono state costruite se c'era se sono state costruite in regime di edilizia libera perché la questione dell'ante 67 se ci pensate bene era una specie di edilizia libera in certe zone in certi comuni dove c'erano certi strumenti e dove certe aree non erano disciplinate e il presente si ripresenterà un problema simile per dover attestare o comprovare certe opere sono state compiute in certe zone su certi immobili a certe epoche non ci aspetta proprio un lavoro tanto semplice anche sull'edilizia libera quindi con l'invito il consiglio che voglio dare è quello di fare molta attenzione anche da questo punto di vista ok allora fabiana mi dice da facebook che l'audio è perfetto e allora sì ragazzi evidentemente ci sono sovraccarichi di rete visto la situazione allora bene andiamo avanti andiamo avanti e arriviamo al momento topico e al magic moment il passaggio della compravendita e le pratiche edilizie il passaggio di proprietà è un momento molto speciale speciale per vari motivi uno l'immobile passa da un soggetto a un altro quindi un venditore trasferisce al compratore ci sono anche altri sistemi di passaggio e proprietà ci sono anche le esecuzioni immobiliari so che molti di voi fatemelo sapere se se siete ctu quindi anche voi mi potete testimoniare che questi aspetti non sono solo nell'atto di compravendita dal notaio ma nelle tutte le forme di legge di trasferimento immobiliare ok bene l'acquirente non conosce la storia edilizia l'immobile cosa intendo dire soprattutto sull'edilizia storica sull'edilizia storica chi lo sa se non quella persona che l'ha avuto in proprietà per decenni se il bagno è stato fatto negli anni 60 e non negli anni 40 chissà quando è stata messa quella longarina per rinforzare il tetto ora sto dicendo proprio abc però sono dettagli che poi fanno la differenza nel verificare la configurazione della conformità dell'immobile l'acquirente non è informato ed è ignorante da questo punto di vista questo è un altro punto passaggio che è una riflessione che intendo condividere cioè tra venditore e compratore nel nostro panorama attuale il più debole o quello che merita maggior tutela maggiore attenzione è appunto l'acquirente perché l'acquirente ha di parte senza meno informazioni del venditore e venditore magari anche qui un po per processo alle intenzioni un po per esperienza il venditore può essere nella posizione nell'interesse di sottascere certe informazioni piuttosto che evidenziarle no è un aspetto banale no si parla spesso di home staging nell'home staging magari si cerca di obliterare no di glissare certi problemi che ne so le muffe che si possano formare su certe porzioni oppure non so l'umidità di risalita no delle anche piccole sfarinature delle finiture di intonaci ecco in questo passaggio l'acquirente è un pochino più arrepentaglio di non conoscere questi problemi invece il venditore magari è a conoscenza altra cosa non esiste fascicolo di fabbricato quindi io non so testimoniatemi voi testimoniatemi voi dalle varie parti d'italia quanto sia facile fare un semplice accesso agli atti ok ora per gli amici di facebook vi chiedo una cortesia se potete condividere questo video perché vedono in parecchi stanno chiedendo l'amicizia così anche gli altri possano accedere tanto in modalità pubblica quindi non c'è bisogno di accedere alla mia alla mia mio profilo allora da siena accesso agli atti tempo medio 30 giorni purtroppo sono a conoscenza che ci sono alcuni comuni d'italia sia di grande città sia anche di piccoli comuni in cui l'accesso agli atti slitta anche ben oltre il termine massimo di 30 giorni previsto da normativa anche anche mesi ed è brutto firenze diciamo siamo abituati bene perché si va anche in tre giorni si va con la pennetta e ci danno un sacco di tutti i documenti e sono già state digitalizzate ma è l'eccezione per cui nel momento attuale non essendo esistente il fascicolo rifabbricato tutte le informazioni sono cartacee da reperire negli archivi magari sono immobili risalenti perché qui noi si sta parlando siamo portati abituati a parlare di immobili recenti no recenti periferie per recenti intendo dopo la legge ponte ecco quindi diciamo gli immobili come dire del cinquantennio ma ricordiamoci noi abbiamo un'edilizia storica molto importante abbiamo una bella fetta di patrimonio immobiliare costruito dal 42 o dal dopoguerra fino al 67 ma anche al 70 cioè fino a quando non si sono cominciato a vedere le prime norme anzi l'inizio del giro di vite delle norme antisismiche strutturali quindi si è costruito tanto in quei 25 anni dalla legge fondamentale no la famosa 1150 ok altra domanda che vi faccio allora vedo che in tanti mi state dicendo sì da livorno quando para loro ora daniele va bene lo so diciamo c'è anche questo tipo di problema chiaramente il l'aspetto che vi voglio domandare è fascicolo e fabbricato e appunto inesistente vi domando anche in che condizioni sono i registri gli elenchi delle licenze concessioni pratiche tutte un nome le storie a elencare spesso si vanno in comune si trova dei dei libroni dei registri non sono neanche in buono stato ecco sono delle copie rispetto agli originali degli archivi storici magari non sono compilati o inventariati bene c'è anche questo problema abbiamo e ci dobbiamo scontrare con questo tipo di incognite il consiglio però che voglio dare è quello di fare opportune ricerche incrociando i dati va bene incrociando dati quali quelli degli atti notarili credetemi servano e sono molto ma molto utili per lo meno per situazioni critiche sono essenziali fanno la differenza bene allora i registri comunali sono a pezzi in quella cartacea lo so in alcuni comuni sono online registri gli elenchi sia esatto io per lo meno dalla toscana vi posso testimoniare che comunque tanti comuni hanno almeno digitalizzato gli elenchi quindi non si va a fare le ricerche io quando iniziai a fare il tirocinio venticinque anni fa come geometra era il lavoro sporco quello da andare a cercare tutta tutto l'elenco dei delle pratiche edilizie delle licenze e a volte quando erano dubbio e ci toccava andare direttamente agli archivi storici dei comuni ok e guardare le pratiche messe in filze non era proprio un bel lavoro tanto semplice poi in passato le licenze venivano chieste non dal proprietario ma magari dal costruttore quindi c'era un'attenzione un modo una prassi completamente diversa rispetto a oggi più easy se mi passate il termine ok allora continuiamo bene andiamo avanti prossima slide è la domanda delle cento pistole anche questa a chi spetta l'onere di provare lo stato legittimo un principio che viene dalla giurisprudenza perché anche qui la normativa è un po come dire sottaci da da questo punto di vista bene il proprietario deve provare la sussistenza dei presupposti dei requisiti comprovanti l'epoca e l'ultimazione di opere epoca quindi una datazione un momento quindi in quell'anno in quel 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 periodo ma anche l'ultimazione le opere cioè bisogna comprovare e spetta al proprietario non spetta a nessun altro lo stato delle opere ultimate cioè si tratta di ricostruire tipo esame di tipo esame di restauro chi ha fatto architettura ecco bisogna veramente ricostruire tutta la cronistoria da questo punto di vista mattone per mattone un lavoraccio è un lavorone se mi se mi passata anche qui la definizione come e quando serve questa cosa l'onere di provare lo stato legittimo o lo stato dell'ultimazione delle opere ci serve per il condono perché la dichiarazione cina non basta è una dichiarazione che indiziaria ci torneremo su un altro webinar perché quello un argomento molto ma molto complesso e voi tecnici siccome sta dichiarazione la fanno la fanno fare ai proprietari voi tecnici non la potete asseverare voi tecnici la potete preparare da questo punto di vista e voi dovete lavorare per il vostro committente verificare davvero se quella dichiarazione verifiera cioè se davvero quella parte di opera quell'intervento è stato fatto prima del non lo so dell'anno x che vi dichiara il proprietario che magari non è quello che ha fatto l'abuso che magari l'attuale proprietario non è neanche quello ha presentato la domanda di condono perché le domande di condono aperte nell 85 e hanno subito con la domanda di condono aperta due o tre atti di compravendita e l'attuale proprietario che magari sa un piffero magari non sa neanche o pensava che condono fosse chiuso ecco mi dite quanti di voi hanno trovato pratiche di condono aperte e il proprietario attuale non sapeva niente credeva ma no ma è tutto a posto da posto è stato presentato il condono si è stato presentato ma non è stato chiuso e non è stato chiuso in maniera positiva magari c'è un vincolo e ti tra come dire a gamba tesa arriva un vincolo nulla vostra sfavorevole bocciato allora capi ha trovato condono aperto a milano da precedente proprietario bianca simone antonio si se ne trova tanti voi pensate che esiste un regime di commerciabilità provvisoria c'è un paragrafo apposta nel mio libro ante 67 su questo e se vi trovate un atto di compravendita con la domanda allegata di condono e da vostro accettamento questo condono non è stato chiuso chiudetelo cioè completate la procedura e portate a casa il condono rilasciato e stop anche perché comunque sia c'è ancora un regime di commerciabilità provvisoria limitato e in certi casi a certe condizioni però lasciatelo perdere il condono per silenzio assenza una trappola mortale anche qui bisognerebbe fare un discorso molto lungo e non abbiamo il tempo quando serve e quando scatta l'onere di provare lo stato legittimo a soprattutto la sanatoria edilizia con l'accertamento di conformità che sia la scienza sanatoria che sia anche una scilla tardiva ragazzi non fatele per bene le indagini ponetevi sempre in una condizione di chiarezza prima di tutto per il vostro cliente perché voi avete un bel servizio al vostro cliente perché è quello per cui ve lo chiede accertate questi aspetti voi potete tranquillamente era lo stato d'ultimazione delle opere perché nelle sanatorie ma anche per le robette semplici apparentemente semplici attenzione non va presa sotto gamba la scilla tardiva è come non va presa assolutamente sotto gamba la scienza sanatoria anzi anzi forse forse la scienza sanatoria mi sembra quella più critica di tutte fatemi sapere anche voi quante c la tardive e scia in sanatorio avete presentato perché cominciano a essere parecchi le opere che si possano regolarizzare con questo tipo di pratiche ok allora un fastello di c la tardive mi dice f e cognome non lo riesco a leggere allora sì a maggior ragione anche per le c la tardive accertatevi assicuratevi ma anche per una questione vostra c'è anche per una questione di responsabilità vi spiego meglio voi tecnici noi tecnici dobbiamo asseverare e fare delle svolgere gli incarichi per diligenza media professionale cioè a prescindere da tutt'anno c'è richiesta una responsabilità che è uno scalino superiore a quella del proprietario committente quindi comunque sia dobbiamo accettarci che sia tutto come dire congruente da questo punto di vista ok non si può lasciare il fianco scoperto su ma la nonna del mina si ricorda che l'intervento è stato fatto nel 64 dal nonno cino magari non è mai esistito quell'intervento magari era tramandato la memoria poi la memoria dopo tanti decenni soffusca non si ricordano dettagli poi capito non vi fidate di dichiarazioni di parte soprattutto se non ci sono non sono rese da chi le ha davvero compiute queste opere fate delle indagini suppletive ok poi quando serve l'onere e soprattutto quando scatta l'onere di provare lo stato legittimo a carico del proprietario quando bisogna dichiarare lo stato legittimo anche 67 che siano compravendita che sia una pratica edilizia che sia quello che vi pare ma voi accertatevi della reale ed effettiva esecuzione dell'intervento dell'opera della costruzione a una certa soglia temporale tradotto non vi fidatele delle dichiarazioni di parte e non sorreggete soprattutto non costruita una pratica edilizia sulla base di questa perché può crearvi problemi perché potrebbe non essere veritiera e a questo punto poi scatta una reazione a catena anche verso il professionista è perché il professionista non si può cavare dicendo ma a me la signora marcella mi ha dichiarato lei è del 65 si calma ma signora marcella fa la farmacista e può non sapere premesso e l'ignoranza non è una scusante ma il professionista a maggior ragione non può non sapere queste cose ecco io spero di aver dato questo messaggio molto chiaramente bene inoltre quando serve provare epoca e ultimazione delle opere sempre quando ai clienti è arrivato la sanzione repressiva cioè quando gli è arrivato l'ordine di demolizione cioè quando si è attivato quel meccanismo da parte della pubblica amministrazione che ha iniziato ad attaccare ea voler reprimere quello che secondo l'amministrazione è illecito quindi secondo l'amministrazione illecito dimostrami te il contrario ti sta dicendo ai 90 giorni di tempo e magari chiaramente fatelo prima perché prima che arriva l'ordinanza di demolizione arriva il diciamo il una sorta di preavviso ok e su quello c'è da fare anche l'osservazione l'osservazione al provvedimento si possano fare anche in con l'avvio del procedimento e soprattutto eviterei di andare a farlo come ricolza altar agite prima bene qua sotto vedete alcuni riferimenti del consiglio di stato che vi possono essere utile allora andiamo avanti andiamo avanti ecco e questo è il il punto centrale se avete magari qualche commento raffaele fatemi le ore io un secondo leggo i commenti da facebook vedo anche qui siete tanti e da facebook eredi che si ritrovano il fabbricato dello zio morto vogliono venderlo ma il condono presentato nell 85 non è mai stato definito perché mancava i pareri paesaggistico essi immobile messo un'agenzia immobiliare con esclusiva e garantendo la regolarità ma ti dirò di più sono capitate il caso in cui e qui sto rispondendo a giulia sto dicendo che mi sono capitate dei casi in cui la domanda di condono era stata presentata e non c'erano vincoli nell 85 poi arrivato una mattina un bel vincolo inedificabile ovviamente arrivando al vincolo dopo comunque non scatta in quel caso l'obbligo subito di deniego lo trattano come se fosse un vincolo relativo ovviamente se è un vincolo edificabile lente sovraordinato a tutelare quel tipo di vincolo ti dirà no quindi come dire uno ci può provare ma con il gioco delle probabilità sarà dura questo è un po per rispondere a giulia fabrizio molto spesso commettenti credono nella presentazione della domanda e condono dell 85 di 94 cui valga ad avere il titolo abilitativo sanatoria va gliela a spiegare che è una domanda è sì fatti come scritto nel libro e nel mio blog il condono è una domanda non è una risposta bisogna aspettare la risposta e bisogna averla anche parecchia alla svelta perché se arrivano vincoli sopravvenuti sono dolori allora prima di questa slide e prima di rispondere anche alle alla chat della webinar a voi di facebook e vi posso chiedere il grande favore di condividere questo webinar così vedo come continuano le richieste d'amicizia e potete condividerla anche a coloro che vogliano vederlo da quest'altra modalità bene ragazzi allora guardiamo questa slide planimetrie catastali raffiguranti lo stato edificato bene i dati catastali non sono sufficienti a dimostrare la conformità urbanistica edilizia questo è prendiamolo come un teorema allo stato attuale è così che ci piacciono no allora c'è però un principio fondamentale ancora più importante le risultanze catastali rivestono valenza sussidiaria verso la legittimazione urbanistica che vuol dire ecco c'è un doppione che vuol dire è complementare è sussidiaria è di supporto vuol dire questo e questo è il principio che ce lo dà il consiglio di stato e che i tar stanno continuando a ripetere su cui ci dobbiamo fare un minimo di focalizzazione ok il valore probatorio o indiziario delle planimetrie catastali quale è probatorio e indiziario che tipo di valore hanno queste ve lo dico io l'accatastamento rappresenta un addempimento tipo fiscale tributario che fa stato ad altri fini senza assurgere al strumento idoneo al di là di un valore indiziario sentite a evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistica edilizia che ne dice fatemi sapere voi cosa ne pensate in pochi secondi di questo principio e io vi rispondo e anche gli amici di facebook anche voi fatemi sapere con esattezza cosa ne pensate di questo principio ok allora un punto è certo un punto è che queste planimetrie hanno un valore indiziario quello è certo è un punto fermo non hanno un valore probatorio a provare la relativa conformità urbanistica edilizia e la reale consistenza allo stato legittimo ok o comunque lo stato ultimato quello che nelle pratiche edilizia si scrive no stato attuale è stato ultimato stato modificato ecco chiaramente fra averle e non averle meglio averle perché comunque sia io vi posso dire per esperienza ma vedo anche dalla giurisprudenza che le planimetrie catastali comunque essendo atti depositati in una pubblica amministrazione che l'agenzia delle entrate il il catasto l'agenzia del territorio come lo vogliamo chiamare comunque una minima di valenza e di come dire di valore ce l'hanno sono firmate dal proprietario sono firmate anche da tecnici quindi c'è una una doppia firma da questo punto di vista hanno il loro valore certo vanno anche ponderate per vari motivi 1 vanno ponderate perché hanno una rappresentazione che è semplificata e speditiva le planimetrie catastali e soprattutto delle vecchie no quelle le schede di impianto soprattutto quando abbiamo a che fare con patrimonio storico e sono planimetrie fatte veramente in maniera molto speditiva semplificata il rilievo forse non si faccia neanche appartamenti tutti storti nell'edilizia storia che invece una planimetria live di squadrati le finestre le porte l'apertura e che sono come dire fatte veramente a occhiometro sì ecco perché ripeto vanno ponderate anche sull'altezza interne lasciamo stare anche lì sono fatte tirate via i disegni la semplificazione dei disegni l'assenza di tante informazioni che può magari se lo dovessimo rappresentare oggi in scala un accento è chiaro che c'è una grafica una rappresentazione molto ma molto diversa ecco perché un valore indiziario questo principio però giurisprudenziale dice un'altra cosettina dice attenzione le planimetrie catastali essendo nate per fini fiscali tributarie per cui c'è un altro scopo c'è un altro fine non possono pretendere non possono assurgere a diventare uno strumento sufficiente o comunque uno strumento in grado di dichiarare la reale consistenza degli immobili cioè sta dicendo a livello urbanistico sta roba non la usate a livello indiziario comunque resta in via residuale un certo valore applicativo sono sono d'accordo anch'io da questo punto di vista ora ripeto per esperienza queste planimetrie hanno sono state molto ma molto utili per comunque creare una sorta di continuità della trasmazione edilizia dell'evoluzione immobiliare proprio perché comunque si incasellavano in maniera coerente alla fine scusate la fornire la prova è un onere che fa a capo del proprietario oggi quindi non dei proprietari precedenti il proprietario di oggi si assume onere e onore ma soprattutto l'onere di provare tutto ciò che è successo prima perché questo perché la giurisprudenza i giudici ritengono che sempre per i principi di fornitura della prova il proprietario sia il soggetto in più prossimità delle prove quindi non spetta la pubblica amministrazione si può ragionare si potrebbe ragionare quanto vogliamo si può non essere d'accordo ok allora ma avete scritto in parecchi diamo una brevissima lettura allora il comune in assenza dei prati edilizie francesca parte dallo stato riportato sulle planimetrie catastale ci sto litigando in questi giorni giusto sono d'accordo le leggi non sono retroattive dice adriano sono d'accordo infatti gli anelli di congiunzione mancano a poi vedo planimetria di impianto del 70 come come si inquadra mirko mirko io una planimetria di impianto del 70 la vedo dura per impianto intendiamo la prima epoca sensuaria cioè la fondazione l'istituzione del cosiddetto catasto edilizio urbano quella si intendiamo quindi 39 38 41 quel triennio poi salvo è corretto ma non si capisce come che in assenza di titolo consentano al catasto ad esempio variazione della destinazione urbanistica ad esempio da 2 a 10 sì è un altro punto interessante il la sconnessione fra catasto e urbanistica sono perfettamente d'accordo con te francesca dipende se si tratta di consistenza o di modifiche non influenzano la consistenza e anche qui vedete però è ottimo assist francesca questo si collega al principio della giurisprudenza ti dice appunto che l'accatastamento segue fini fiscali tributari e nient'altro ok adriano valide per la consistenza leggiamo gli amici di facebook cosa dicono gli amici di facebook e ci dicono antonio valenza probatoria in caso di fabbricati vecchi sprovvisti di documentazione urbanistica in quel caso il primo accatastamento con te come è vero non è proprio tanto difficile trovare regolamenti edilizi che scrivano espressamente che in assenza di titoli licenze di bla 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 si fa riferimento alle planimetrie catastali tutte tutte non fa solo riferimento all'impianto tutte perché magari ci potrebbe essere comunque una planimetria catastale del 64 su un immobile costruito in una zona dove in quel momento non c'era l'obbligo di licenza ora che qui ce la raccontiamo fino a un certo punto perché in zona e questo accadeva soprattutto nelle zone agricole perché poi c'era l'anello dei centri abitati che cresceva con le periferie nelle zone agricole non si accatastavano gli immobili e cioè l'obbligo è successo diciamo l'ultima ultima ultima proroga è stata quella 2011 2012 se non ricordo male gli immobili fantasma insomma allora stefania il concetto è giusto l'assurdo sta nel fatto che per condoni già nell 85 lo stato ha introitato 35 anni fa da contribuenti ancora oggi non rilascia dei sanatori allora stefana è un punto interessante anche il tuo fatto sta è che è il cittadino che in molti casi non si è comportato in maniera diligente perché aspettava lui integrare perché magari comuni la prima cosa l'hanno fatta ora mi riservo di come dire di verificare per quei comuni che invece non hanno neanche mandato le richieste di integrazione ma io credo che almeno nel primo triennio 85 88 una mandata di richieste di integrazione comuni l'hanno fatte stava il cittadino o magari la richiesta integrazione è stata mandata al precedente proprietario il quale ha venduto e ha venduto senza dire al compratore io te lo posso vendere col condono aperto ma non ti dico è mai arrivata la richiesta integrazione vedete quando si diceva la carenza di informazioni tra venditore e acquirente questo di nuovo è un altro caso bene allora daniele il paradosso è che taluni comuni ritengono non probatori e le planimetrie catastali ma quando torna bene a loro sono elementi di cui tener conto è sì mi trovo in difficoltà a replicarti contro effettivamente possono esserci atteggiamenti che possono essere variabili vai passami il termine non non è una cosa bella ok francesca io ho cominciato il tirocino il 95 mi facevano calcare ricalcare le piantine cancellando la parete non ci doveva essere così se mancava una finestra sulla precedente l'errore si trasferiva sulla nuova sono cambiati troppi criteri ad oggi la precisione su sopralloghi sono tutto allora sono d'accordo e anch'io ricalcavo le planimetrie a china ok quindi ti sono solidale si grattavano effettivamente queste questi meccanismi erano la prassi adriano comunque dimostrano uno stato dei luoghi a una determinata data io sono d'accordo è diamo il valore fortemente indiziario non probatorio ma ai fini urbanistici però hanno un valore altamente indiziario cioè o ci sono veramente falsità ma è anche questo vedete bene che è un po un problema poterlo verificare ma in un quadro generale di tante pratiche edilizie in un regime di continuità la planimetria tastale magari assume un valore anche di congruenza ecco questo vi invita a riflettere o giuseppe o quello si voleva dimostrare alla determinata data ecco non so come magari spiegami per bene rocco stato attuale di forme dalla planimetria tastale per la presenza di un'apertura in un muro portante in muratura che collega due subalterni di diversa si può fare una scia ecco allora ti dico di e bisognerebbe capire un po meglio la sua fattispecie ok allora qua da facebook cosa mi state dicendo facciamo un piccolo aggiornamento eccolo qua a roma ci dice stefania la situazione è grave posso immaginarlo posso immaginare anche da questo punto di vista allora quindi un po per fare il riassunto abbiamo parlato della legittimazione urbanistica della definizione dello stato legittimo immobiliare il passaggio della compravendita delle private edilizie la connessione con l'onere di provare lo stato legittimo le planimetrie catastali raffiguranti lo stato edificato come si incasellano con gli aspetti edilizzi urbanistici e fino a che punto possano casellarsi il valore probatorio indiziario delle planimetrie ecco appunto fino a che punto le possiamo utilizzare fino a che punto le possiamo applicare anche nei procedimenti fino a che punto le possiamo utilizzare come elemento a favore del nostro cliente che vuole vendere e vuole comprare che vuole trasformare vuole condonare vuole sanare che vuole fare i propri interessi sull'immobile e quindi abbiamo dato un primo primi scenni da questo punto di vista chiaramente io ora condivido alcune riflessioni con con i colleghi professionisti il fatto è che vedete in tutto questo non ho evidenziato il ruolo dei professionisti capite bene che questi noi professionisti abbiamo delle enormi responsabilità anche in questo quadro dove non è ben chiaro chi deve dimostrare cosa perché e per come io l'invito che vi voglio che vi voglio condividere è quello di non fermarsi alle dichiarazioni alle supposizioni ai ricordi alle chiacchiere il consiglio che vi voglio dare è numero uno non fidarvi del cliente che molto probabilmente non è neppure proprietario che ha come dire compiuto certe opere ok non non c'è da fidarsi neanche tanto delle foto aeree perché o lorenzo lorenza mi dice cattaccia disponibile in una settimana questa è arrivata tardi allora è importante scusate è importante questa cosa è importante che voi non vi filiate neanche delle fonti documentali mi spiego meglio le foto aeree possono essere attendibili ma fino a certo punto abbiamo una una banca dati aerofotogrammetrica un repertorio soprattutto per gli immobili ante che posso dire prima degli anni 80 perché le regioni hanno cominciato a ad accelerare molto sulla cartografia digitale scusate l'artografia analogica dopo con la cartografia digitale l'aereo fotogrammetria ma prima degli anni 80 non c'è tanta roba soprattutto e questo è brutto dirlo nelle regioni del meridione ancora peggio questo ha avuto modo di poterlo verificare anche con colleghi studenti universitari quando si faceva gli esami a urbanistica oppure anche facendo le ricerche attuali per il lavoro per cui magari può capitare una fotogrammetria che è incerta è in dubbio anche su quella ponderate la ecco nel dubbio e questo è il secondo consiglio se ci sono dubbi voi nella lettera d'incarico o nel link già nella lettera d'incarico esprimete le vostre riserve perché non siamo stregoni ok sarebbe bello avere le risposte in maniera chiara non succede neanche nei calcoli strutturali la certezza chiarissima ok non vi assumete questo tipo di responsabilità e quando si fa le verifiche di legittimazione urbanistica le verifiche di conformità posso dire nel 99 per cento dei casi salta sempre delle incertezze degli imprevisti delle non risposte magari ma sparisce la pratica edilizia c'è nell'elenco delle licenze però sua falla c'è stagliati e l'archivio storico che risponde no caro mio non c'è la pratica è sparita l'archivio è avuto un allagamento ecco può succedere non ci possiamo noi sostituire in questo senso alle responsabilità di dover fare delle dichiarazioni quindi quando vi chiedano a voi di asseverare epoca e opere ultimazione opere poi non le dovete asseverare le deve dichiarare il proprietario perché lui è solo lui dice la norma come mi è capitato qualcuno fatemelo sapere anche voi se hanno chiesto a voi di dichiarare l'epoca e lo stato di ultimazione delle opere perché qualcuno dei colleghi me l'ha detto ma il comune mi ha chiesto di fare questa asseverazione io no non è dovuta non la devi fare se questa dichiarazione la deve fare il proprietario perché è lui che deve dichiarare queste cose non te professionista che professionista sei pagato sei incaricato per fare gli accertamenti affinché il proprietario dietro il tuo incarico dietro la tua relazione abbia le informazioni di corredo a corollario ok allora vito le sparizioni succedono e come emilio nelle esecuzioni immobiliari non lo so jacopo io solitamente svolgo sopra il luogo la planimetria catastale alla mano per verificare eventuali incongruenze si jacopo ma non basta cioè da un punto di vista catastale forse ma poi c'è tutta l'incognita e tutta la catena urbanistica da verificare allora allora da facebook che mi state dicendo bernardo per quanto riguarda le foto aeree estratte dalla fototeca regione toscana sono probatorie allora sono probatorie soprattutto quelle originali quindi dal soggetto che le ha prodotte hanno un valore probatorio direi proprio di sì quelle dell'igm quelle delle regioni ora le regioni non hanno diciamo la strumentazione spesso appaltavano a compagnia apposta da questo punto di vista nel lazio roma c'è la saranistri che è una compagnia è una società molto avanzata da questo punto di vista per cui hanno valore probatorio sì allora il giudice comunque soprattutto il giudice penale ma anche giudice amministrativo e giudice civile comunque lo sapete a molti poteri di valutazione probatoria e cioè può tranquillamente usate lo sapete no e ci faremo uno webinar se ve lo prometto anche google earth viene usata come fonte probatoria quindi le foto satellitare fatte dall'agenzia spaziale di di chissà dove sono usate anche fini penali allora vedo 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 è stato in tante è piano è perché state scorrendo eugenio se il proprietario nel tempo è cambiato chi mi assevera l'attuale proprietario ecco bella domanda chi è che deve asseverare lo stato odierno il proprietario odierno stop ora in caso di sanatoria la norma prevede una dualità cioè o del proprietario o te responsabile dell'abuso come dire io sono il l'attuale proprietario l'immobile l'ho comprato sei mesi fa mi sono accorto è saltato fuori questo abbiamo fatto un accordo transattivo niente cause siamo rimasti d'accordo che il vero responsabile cioè il precedente proprietario sia lui a presentare la sanatoria così tutte le sanzioni da un punto di vista penale che c'era coscerino mi girava da un punto di vista penale amministrativo vadano a carico suo ecco questo però è valido ai fini della sanatoria andrea carlo come la vedi rilascio delle sanatorie sensi della legge 47 su elaborati grafici consistenti delle sole planimetrie in scala una 200 planimetrie catastali dove a mio avviso si rende impossibile verificarne la consistenza esatta ecco fatemi sapere anche voi qui nello webinar a che è capitato di trovare condoni rilasciati sulla base dell'elaborato grafico della planimetria catastale un giallo e rosso fatto veramente con il lapis è proprio roba da tre minuti ecco fatto sapere anch'io l'ho trovate mi sono capitate come si fa allora una strada c'è però è quella della rettifica della degli elaborati grafici ma ci deve essere un oggetto cioè il motivo per cui io vado a presentare a chiedere e non è detto che il comune accetti una rettifica e quindi un'integrazione postuma col condono rilasciato ci deve avere un qualcosa che come dire dimostra la necessità di fare la rettifica per esempio no è stato dimenticato di fare di riportare che ne so una finestra che però nella foto allegata nel condono c'era quindi non c'è la falsità è tutta la luce di sole le foto già presentate al condono decenni fa dimostrano la nostra tesi ecco in quel caso sì ma ci deve essere qualcosa se invece il tuo scopo la sua domanda andrea è quella di dire la planimetria la planimetria tastale è inaffidabile perché è disegnata in scala una 200 da cani e purtroppo ne sono state fatte purtroppo era quasi la norma di lavorare ecco anche se fossero state disegnate lavorate in scala un accento disegnata a china le quote mancavano erano tirate via ce n'era forse il minimo sindacale riportature cioè noi oggi ci troviamo come dire costretti a fare le verifiche a oggi con i nostri strumenti con le no con la nostra cultura tecnica sì ci troviamo in una bella difficoltà ok allora vito e anche laura anche laura dice l'ho trovata disegnata sulla sola planimetria catastale condoni vero vito diverse volte effettuato uno stato intermedio tra planimetria è stato di fatto se è possibile ad esumerla ad esempio un qualcosa chiaramente realizzato in cio che non so il concessore edilizia se per questo dice francesca non si possono prendere come riferimento gli elaborati vecchi infatti vanno ponderati giuseppe quindi se non si trova nulla la responsabilità dello stato dei luoghi ricade sul proprietario non sul tecnico certo giuseppe e noi non ci possiamo assumere le responsabilità noi ci possiamo prendere la responsabilità di fare gli accettamenti ma a certo punto noi dalle nostre dalle nostre risultanze diciamo al proprietario guarda secondo me dalle mie indagini le cose stanno così quindi ti rimetto a te la come dire le informazioni e diciamo tu le devi dichiarare non il professionista professionista anche nelle domande di condono la normativa chiede al proprietario di dichiarare tutta una serie di informazioni tecnico non assevera al tecnico richiesta un'altra serie di adempimenti la famosa dichiarazione d'oneta statica nel condono quante di voi e ne avranno firmate no a vito dicevi corso d'opera ok demis mi dice a roma le condoni solo sulle planimetrie catastali si ragazzi vi dico a giudicare anche da cessa gli atti che condoni nel 85 si facevano a ciclo stile bisognava cioè il primo problema era presentarli con il minimo sindacale che potessero permettere di andare avanti e non si stava guarda tanto il sottile mentre da facebook vediamo vediamo a firenze in teoria al deposito dello stato legittimo ai sensi dell'articolo 12 il regolamento questo un altro bel discorso su cui mi piacerebbe fare una bella chiacchierata però andrea occhi aperti non vi fidate su questo tipo di disposizione io insomma ci starei un pochettino prudente se mi se mi consenti ok allora direi che siamo agli ultimi minuti fatemi sapere allora con dei commenti cosa ne pensate di ciò che abbiamo discusso in questi punti e poi questo vale anche per voi che siete in diretta su facebook e vi ricordo che questa questo webinar il tempo necessario ma insomma lo metto sul mio canale youtube iscrivetevi cliccate anche sulla campanellina così verrete avvisati del caricamento e lo caricherò anche su facebook e sul linkedin ok per cui lo potrete condividere anche con tutti i vostri colleghi nei vari gruppi anche presso gli ordini professionali visto che siamo anche in una situazione di come dire di quarantena formativa è ok adriano mi aspetti a bologna ok volentieri ci sarebbero bene un paio di tortellini è parlo serio e alla francesca dovremmo qualche modo fanno presente a legislatori che scrivono senza essere mai stati in archivio ci sarebbe tante cose da dire bene allora sentite questo commento alessandro da facebook ma se dopo un condono non chiuso sono state fatte delle frate edilizie quest'ultime le vada a legittimare vada legittimano a legittimare lo stesso immobile è bel problema attenzione a a cosa ea come le fate perché ci sta che create delle possibili contraddizioni ok questo è veramente da farci molta ma molta attenzione il fatto è che potreste creare involontariamente delle discontinuità e le discontinuità alla pubblica per la pubblica amministrazione corrispondono a illeciti ok altro consiglio allora allora se poi mirko mi dice marietti sa con il terremoto quante quante cose quante problemi lo so posso immaginarle tant'è che quando si va a ricostruire dei mobili che sono stati rovinati dagli eventi sismici è un bel casotto ok allora antonio daniele ti risponderò in un corso apposito ok antonio sarebbe necessaria un'azione di lobbying per avere un mini condono su tutte le stesse situazioni esatto esatto sarei d'accordo salvo è possibile vendere un immobile non conforme con ampliamente regolarità varie ne parleremo nel nei vari seminari che terrò a livello itinerante tra l'altro dovrei farne uno in live quindi online proprio dalla toscana ok seminari ho detto bene bene da facebook mi state dicendo grazie fabiana per le tue chicche ci dai numerevoli spunti va bene vi ringrazio io condividetele pure con i colleghi anche della sicilia è perché il problema va da va da trenton giù a quanto pare poi chiaramente barbara volevo sapere se tu non ritieni corretto dell'ante 67 sia legittimata a prescindere vista la confusione di regolamenti locale che esiste sì ci ho scritto un libro sopra su questo argomento e la conclusione è di non fidarsi dell'ante 67 ok può essere applicabile dopo una lunga serie di condizioni viaggio la manutenzione straordinaria sono immobile con condono aperto ai ragazzi allora terzo consiglio che condivido oggi se c'è un condono aperto stop non fate niente chiudete il condono e poi portata avanti le varie prate in va bene in funzione di tutte le eventuali pratiche successive sono state rappresentate perché ripeto rischiate di creare delle frappole allora o alessandro la risposta dell'ufficio abusi è stata non sarebbe da tenere in considerazione la pratica successiva al condono ma dato il comune non ce n'è accorto fa lo stesso mi è venuto freddo è in effetti lascia il tempo che trova bene ragazzi allora io vi ringrazio per l'attenzione siete stati molto gentili siete stati veramente mi avete fatto aprire anche altre idee condividete pure questo video ci diamo appuntamento ai prossimi webinar ok vi potete iscrivere anche sulla mia newsletter potete seguirmi sui vari social per cui darò preavviso e farò un calendario da questo punto di vista e poi non so scrivetemi anche nei social con delle idee commentate anche qui sotto nel nel video che vedete se è pubblicato su youtube su linkedin su facebook commentate con delle vostre idee osservazioni e io nel limite del possibile del tempo cercherò di rispondere va bene allora buon lavoro a tutto buona quarantena formativa perché siamo tutti in questa condizione e ci diamo appuntamento allora alle prossime eventi ciao a tutti e buona serata da carlo pagliai ciao a tutti